Presidente, la situazione negli invasi del Consorzio, soprattutto a Occhito? La situazione è molto simile a quella del 2020, della stagione 2020. Purtroppo, come già ormai ribadito, sin dall'inizio della primavera, non riusciremo a completare la stagione in rigua a causa di una disponibilità limitata di acqua. Ricordo a tutti che abbiamo una disponibilità di circa la metà dell'acqua negli invasi dedicata all'irrigazione rispetto all'anno scorso. Ovviamente è inutile allarmarsi per quanto riguarda il potabile, perché quello verrà lasciato nella diga di Occhito a disposizione per l'anno a seguire per gli usi civili. Quindi per gli usi civili non dovremmo avere nessun problema quest'anno, nonostante il caldo torrido e la siccità? Ovviamente no, salvo bisogna pensare che l'inverno prossimo non piova per niente, insomma, mi auguro proprio di no. Chi dice che si perde acqua dall'invaso di Occhito? No, allora la parola perde è un misunderstanding che è partito dalla stampa, da qualche comunicato stampa. Non è che purtroppo si perde l'acqua, si eroga tanta acqua, anche perché le temperature torride di questi giorni faranno oltretutto schizzare in alto i consumi. Per cui si pensa al momento di riuscire a dover lasciare, dovendo lasciare almeno i 60 milioni di metri cubi utili in diga, si pensa purtroppo di arrivare alla metà o alla fine di agosto, diciamo, a seconda di quello che saranno i consumi nei prossimi giorni. Ovviamente servono nuovi invasi, l'appello è sempre il solito? L'appello è sempre il solito, ha fatto bene a dire il solito perché almeno sono secoli che lo diciamo e bisogna ripensare le infrastrutture. Le infrastrutture non vanno pensate nel momento in cui c'è l'emergenza e si soffre, le infrastrutture vanno pensate prima perché richiedono anni per farle.